Ciao a tutti, benvenuti! Oggi sono qui per parlarvi dell'inquietante caso di Joe Biden. Infatti fino all'ultimo non sapevo se proporvi questo caso sul mio secondo canale o su questo canale, poi ho preferito proporvi il video su questo canale perché ormai, insomma, Joe Biden è il secondo nostro grande idolo e quindi, insomma, ho deciso di fare così. Ora, se mi vedete sempre non grattare ma toccarmi in questa parte, non fateci caso, non è un tic, ma nei giorni precedenti sono stata morsa da un insetto che non mi aveva mai morsa in precedenza. Ora, qui bisogna anche un tantino fare attenzione, eccetera, eccetera, ma vi spiego la sensazione che ho provato. Ero in macchina e ad un certo punto ho provato un bruciore improvviso che davvero sembrava come se qualcuno mi avesse buttato una sigaretta sulla pelle, una sigaretta o come se qualcuno me l'avesse spenta la sigaretta sopra la pelle. Ed è stata una sensazione così improvvisa, io stavo bene, un secondo prima stavo bene, il secondo dopo un bruciore, ragazzi, molto, 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 molto forte. Dal punto di vista del dolore, della soglia del dolore, io sono una donna anche abbastanza resistente, perché difficilmente mi lamento quando mi fa male qualcosa, però quel bruciore è stato orrendo. Fatemi sapere se è accaduto anche a voi simile a quando punge una vespa o un'ape, ma questo insetto era minuscolo, perché poi quando me l'hanno ucciso mi hanno detto che era minuscolo. Comunque, quindi non fateci caso, è proprio il vizio, è il fatto che comunque, anche se, diciamo, sono fuori pericolo, però prude, prude, perché poi si trasforma in un puntino che è prude come se ti avesse pizzicato una zanzara. Ora, oggi come vi dicevo sono qui per parlarvi di Biden, io solitamente quando registro un video in cui commentiamo un articolo o quando per esempio io voglio condividere con voi un articolo, apro una pagina e poi condivido con voi il link dell'articolo giù nella info. In questo caso, e sono stata anche buona, questo ci tengo a precisarlo, io ho aperto una, due, tre, quattro pagine, perché il caso di Joe Biden sta diventando davvero preoccupante, nel senso lui sta facendo preoccupare tantissimo anche la sua, diciamo così, i suoi, non li potrei nemmeno più chiamare amiconi, anche perché sono gli stessi democratici ad oggi, ad oggi, vabbè, oggi, diciamo così, sono gli stessi democratici a voltare le spalle a Biden, ok? Loro stessi dicono, guarda, in parole povere dicono, guarda, te ne devi andare, perché qua l'hanno capito tutti, tutto il mondo l'ha capito che tu hai dei problemi evidenti e per sottolineare i suoi problemi evidenti, io volevo portarvi come esempio degli articoli. Allora, lui innanzitutto, allora, non so se ne stanno parlando molto in Italia, probabilmente no, perché in Italia magari ci saranno altri problemi, anche se Joe Biden attualmente, secondo alcuni, è un grave problema. Però è il nostro secondo idolo, giusto, dopo Bill Gates, giusto, in versione sarenchiana, quindi dobbiamo sostenerlo, almeno noi. Ora, ho letto un articolo in cui lo stesso attore, George Clooney, ha praticamente consigliato a Biden di mollare. Lui, Biden, è stato invitato in svariati programmi a sostenere varie interviste, diciamo così, alcune interviste sono state annullate, altre sono state cancellate. Qui c'è scritto, vabbè, i leader repubblicani, che è la fazione opposta sempre sulla scena pubblica, dichiarano che Biden è inadatto, denunciano la copertura da parte dei democratici e dei media del suo declino mentale. Perché, non so se lo sapete, e qui cito un altro articolo, lui avrebbe detto, cioè, nel senso, avrebbe chiamato Zelensky, non Zelensky, ma Presidente Putin. Loro si stanno ad azzuffare, almeno sulla scena pubblica, facciamo finta di crederci, giusto? Facciamo finta di credere che tutto avviene per caso. Però, quelli si stanno azzuffando, magari non si possono vedere nemmeno, sicuramente non si possono vedere nemmeno, e tu che fai chiami Zelensky, Presidente Putin, di fronte ai leader della Nato? Di fronte ai leader della Nato. Qui c'è scritto che il Presidente, lo chiamano fantoccio, commette una grave gaffe pochi istanti prima della sua conferenza stampa. Giovedì, di fronte ai leader della Nato, il Presidente Biden ha definito il Presidente ucraino, Zelensky, Presidente Putin. E qui c'è anche il video. Io vi lascerò questi link, se volete, giù nella info, ragazzi. Ora, le sue parole sono state queste. E ora voglio passare la parola al Presidente dell'Ucraina, che ha tanto coraggio quanto determinazione. Signori e signore, Presidente Putin. No, ragazzi, se trovo il pezzo e riesco a farmelo sentire, devo farvelo sentire, anche se non masticate l'inglese. L'ha chiamato davvero Putin, ragazzi. L'ha chiamato davvero Putin. E poi si è accorto di aver sbagliato. Questo, ragazzi, è imbarazzante. Soprattutto se proviene da un Presidente, in questo caso degli Stati Uniti. Ora, possiamo dire tutto, ibridi o manorettili, eccetera, eccetera. Ma comunque, Presidente degli Stati Uniti, passati, anche lo stesso Reagan, che all'epoca era lui etichettato come il Presidente più anziano degli Stati Uniti d'America, poi il record dell'abbattuto Joe Biden è anche in modo pessimo. Ma diciamo che la figura del Presidente degli Stati Uniti d'America, in precedenza, dagli altri è stata coperta anche in un determinato modo. Possiamo dire che erano laidi, possiamo dire che erano criminali, tutto quello che volete. Ma dal punto di vista della presenza, di certo non si vedeva questo, ok? Il fatto che lui abbia chiamato Zelensky Putin è molto grave, capite? È molto grave innanzitutto perché Biden è il Presidente degli Stati Uniti d'America, quando evidentemente non è in grado nemmeno di farlo. Lui non è nemmeno in grado di ricordare i nomi, probabilmente non sa nemmeno quello che sta accadendo sulla scena mondiale, ed è molto grave. Dopo aver suscitato stupore, Biden si è subito scusato e ha detto che era appunto così tanto concentrato a battere Putin che purtroppo gli è venuto di chiamarlo Putin, proprio perché lui adesso è troppo concentrato a combattere, ad aiutare l'Ucraina. Ora, ovviamente queste GAF unite a tante altre, ragazzi, non fanno altro che rafforzare le dichiarazioni dei repubblicani dall'altra parte, no? Ci sono tantissime persone che dicono che Biden non avrà assolutamente, diciamo, chance contro Trump. Però, ragazzi, non lo so, non lo so perché come noi ben sappiamo, magari gli altri non lo sanno, ma noi sappiamo un po' come funziona il sistema e se il sistema non vuole Trump al potere, Trump non ci andrà. Però diciamo che non possono nemmeno fare la figura e dire che, ne so, gli americani hanno scelto per l'ennesima volta, perché lui è convinto, lui ha detto io non mi ritiro, assolutamente non mi ritiro, invece adesso è uscita un'altra notizia in cui lui praticamente ha detto che se proprio dalla sua parte si voterà affinché il no, lui lasci l'incarico, eccetera, eccetera, allora in quel caso si tratterà di una scelta democratica e quindi lui sarebbe disposto anche ad andarsene, a lasciar perdere. Ma lui non ha alcuna intenzione di lasciar perdere. Addirittura in una dichiarazione, questa dichiarazione è del 9 luglio, lui praticamente ha detto Biden promette di non andarsene mai. Questo per dirvi, capite? Promette di non andarsene mai e c'è anche un video. Poi un'altra ultima ora, Biden lascia la porta aperta per essere sostituito. Se all'improvviso mi presento alla convention e tutti dicono vogliamo qualcun altro, allora si tratta di un processo democratico e allora a quel punto posso pure decidere di lasciar perdere. Però mentre faceva questa dichiarazione, allora lui ha dichiarato, ovviamente sono liberi di fare quello che vogliono. Se all'improvviso mi presento alla convention e tutti dicono vogliamo qualcun altro, questo è processo democratico, ha detto Biden. Prima di concludere con il suo famigerato sussurro sul palco, ma non accadrà. Quindi lui ha detto io sarei anche disposto a farlo, ma non accadrà. Ci sono molti democratici che si sono proprio definiti, diciamo così, imbarazzati da tutto quello che lui sta facendo. E quello che sta facendo è veramente grave, molto molto grave. Ed è grave non soltanto dal punto di vista degli Stati Uniti, ma è grave proprio sulla scena mondiale. Lui non sa con chi parla, non sa come, dov'è, non sa chi è. Ha dei seri problemi e secondo me anche questi problemi sono stati per lungo tempo omessi. Non lo so, forse per cercare di mantenere la sua posizione integra, pulita, forse per cercare comunque di aiutarlo in questo, però adesso devo dire che i suoi problemi stanno diventando evidenti, quindi tu non puoi più coprirli. Ma non sono sicura del fatto che Trump vincerà così. Allora, innanzitutto, sì, sarebbe veramente una figura pessima se andassero ad attribuire agli americani, diciamo così, una scelta così grave. Allora, voi immaginatevi questo futuro. Biden decide di non ritirarsi, ad un certo punto vince addirittura. Ora, io non credo che in America, negli Stati Uniti, si andrà a fare questa scelta. Non credo che le persone andranno a fare questa scelta, perché vi assicuro, ok? Vi assicuro che ci sono tantissime persone che si sono non pentite, ovviamente quelle che hanno votato Biden. Non è che si sono pentite di più, ok, di averlo votato. Ci sono anche, ragazzi, qui si parla di elezioni truccate, nel senso che Trump sostiene che le elezioni siano state truccate. Poi, quello che dice Trump, io non mi fido mai di quello che dicono i politici, non mi fido del sistema politico, quindi per me potrebbero pure essere state truccate, ma in ogni caso ci sono comunque le persone che hanno votato per Biden l'ultima volta, ok? Ho avuto modo di parlare anche, quindi ci sono. E queste stesse persone sono le prime magari ad ammettere che ci sono dei problemi evidenti con questa persona e che non andrebbero mai a dare un voto ad un individuo del genere, perché arrivato ad un certo punto, arrivata anche ad una certa età, dovresti prendere un pochettino coscienza dei tuoi problemi e dovresti dire, ok, è arrivato il momento di ritirarmi. Perché se tu, presidente, cosa che non è, però facciamo finta che lo è, se tu, presidente, dici di amare gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, dovresti volere il bene, ok, della gente che rappresenti. E invece tu fai tutto il contrario, perché tu stai rendendo ridicoli gli Stati Uniti sulla scena mondiale, perché gli Stati Uniti, dal punto di vista politico, vengono rappresentati da te. Quando, per esempio, ci sono delle riunioni in cui sono presenti gli Stati Uniti, non è che sono presenti tutte le persone degli Stati Uniti, tutti gli americani, no, sei presente tu a rappresentarli. E il come li rappresenti è imbarazzante. Quindi dovresti un attimino cercare di renderti conto di quello che sta accadendo, di renderti conto che forse il tuo momento è passato, che non può più essere così, è andare indietro. Perché anche il confronto tra Biden e Trump, non so se l'avete... È imbarazzante. Imbarazzante. Ci sono addirittura persone della sua cerchia, sto parlando della cerchia di Biden, che hanno proprio dichiarato che Biden li fa vergognare. Ma niente come sembra, nel senso che secondo me questa situazione fa comodo a tutti, o meglio, fa comodo a chi? A coloro che noi non vediamo, a coloro che poi fondamentalmente gestiscono il tutto. Perché da questa situazione potrebbero nascere altre situazioni che potrebbero portare ad un qualcosa che magari loro hanno organizzato. Tutte le pedine fanno parte del gioco. Ok? Quindi anche Biden in questo caso fa parte di un gioco. Come lo muoveranno? Non sappiamo. Ma il potere decisionale di certo non ce l'hanno i politici in questo mondo. Sappiamo benissimo chi ce l'ha. Ok? Quindi, non è secondo me così scontata la vittoria di Trump. Potrebbero inventarsi qualsiasi cosa. Potrebbero magari dire alla fine, sempre se Biden decide di restare, bisogna un attimo vedere come andrà a devolversi la situazione, perché è molto molto caotica. Potrebbero anche dire, gli americani, ad esempio, sono così schifati da Trump che alla fine hanno deciso perfino di rinominare, di dare comunque il loro voto a Biden pur di non votare Trump. Potrebbero inventarsi qualsiasi cosa, ragazzi. Ma Biden non è più adatto per ricoprire la carica di presidente. Non lo dico nemmeno in tono ironico, perché di fronte a dei problemi di salute noi non dobbiamo essere come loro, non dobbiamo essere malini come loro. Io faccio svariati passi indietro, perché i problemi di salute sono terribili. Qualcuno di voi potrebbe dire, beh, se li meritano anche dopo aver fatto così tanto male. Il male non va mai augurato a nessuno, ragazzi, perché comunque a tempo debito loro pagheranno, pagheranno per tutto quello che hanno fatto. E non dobbiamo scendere comunque, diciamo così, nei meandri del maligno ed abbassarci ai loro livelli e augurare loro le cose peggiori, perché comunque già, diciamo così, la condanna se la sono firmati. E se non verranno puniti comunque in questa esperienza in forma umana, sicuramente ci sarà qualcosa che li punirà. Non lo so, voi che cosa pensate? Credetemi, in rete, ecco perché sono indecisa se inserirvi lì, inconnestamente. Ci sono, non sto scherzando, un centinaio, forse anche migliaia di siti che riportano notizie su Biden, che ha problemi mentali e questo è stato assolutamente ormai dichiarato. Hanno tenuto nascosto per molto tempo questo fatto, poi questi problemi mentali con il passare degli anni e dei mesi si sono andati ad aggravare e quindi sono diventati evidenti a tutti. Tu non è che puoi nascondere queste problematiche, le vediamo tutti e sono anche molto imbarazzanti. Quindi secondo voi come andrà a finire? Trump ha qualche possibilità? Oppure cercheranno in tutti i modi di, non lo so, di cambiare il tutto, di cambiare il gioco? Comunque il caso Biden è parecchio inquietante. Se ne sta parlando molto qui, non so lì ma è molto molto inquietante. Proprio anche il suo dire una cosa adesso, dire un'altra cosa dopo, il suo aver chiamato il presidente dell'Ucraina Putin. Io credo che proprio sia stato il colmo. Perché anche se uno, voglio dire, non ci crede, cioè alla fine tu lo chiami come il suo nemico, lo chiami col nome del suo nemico, dico. Anche se queste cose vengono orchestrate, ok, e probabilmente non sono nemmeno vere, che cavolo. Almeno bisogna saper recitare bene, giusto? E lui non è più in grado di recitare bene. Ma lo so. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi del nostro amatissimo Joe Biden. Preparatevi a difenderlo. E nulla, ragazzi. Io vi auguro un buon proseguimento. Fatemi sapere tutto quello che volete. E vi ricordo che nella info troverete il link per venirmi a trovare sul secondo canale. Sempre e solo se vi va. se siete appassionati di mistero, ufologia, paranormale e tanto tanto altro. Vi mando un bacione e vi aspetto. Alla prossima!